Davide Bari Rientra dall'ospedale, trova l'appartamento occupato dai nonni Singolare disavventura per un'anziana Vigili costretti a intervenire e denunciare quattro persone Alunni di quarta e quinta della scuola elementare Francesco Baracca di Cusignana in visita a Rete Veneta insieme alle loro insegnanti Dopo aver studiato in classe, meccanismi e regole dell'informazione Eccoli, blocnotes e macchine fotografiche alla mano A scoprire dal vivo la vita di redazione nella sede di Rete Veneta a Fontane di Villorba Se guardi la luce la nostra vuol dire che guardi in casa Ok Vai Buonasera, diventa un caso politico il nuovo ospedale di Tioviso Con il capogruppo della Lega in regione all'attacco della giunta Vertenza Electroluts ha anticipato il tavolo governativo al mese dall'otto Una mattinata a contatto con il lavoro di tecnici e giornalisti di Tg Treviso Lo studio e i temi dell'approfondimento politico di Focus Alla scoperta del funzionamento della regia e delle telecamere Poi per gli alunni dell'istituto comprensivo di Javera L'esperienza davanti alla telecamera per cimentarsi nella lettura del Tg Nello stesso giorno denunciato dalla polizia locale per lo stesso reato Un trevigiano Alla fine è riuscita a mettere d'accordo tutti Buongiorno E adesso torniamo a parlare del progetto che collega la targenziale di Treviso In ogni caso tempo per decidere se diventare giornalisti, operatori o registi Ce n'è ancora parecchio